buona mese terza sconsita per la riva eh sono monaco galvanizzato monaco galvanizzato ha dato loro tranquillità e fiducia anche negli altri reparti ci resta solo ringraziare i telespettatori che sono stati con noi ringrazio luca marchigiani per avermi accompagnato un ringraziamento e un saluto anche da parte mia col comagnato di gervinio eh chi ce l'ha metti eh eh Grazie a tutti.